Si ha anche un valore simbolico perché è l'inizio di una sfida, ossia di convertire gli impianti verso la transizione ecologica e l'economia circolare che sono le vere sfide non del futuro ma del presente e tra l'altro nasce tra una sinergia tra tanti soggetti qualificati, tra i quali anche importanti del nostro territorio quindi entrare nella filosofia che lo scarto diventa un valore e diventa un elemento anche produttivo del nostro territorio è sicuramente molto significativo. Io ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa nuova filosofia visuale che tra l'altro verrà delirata concretamente entro pochi mesi e quindi ne potremo vedere fin da subito i risultati.